benvenuti nel canale di informazione punto ortona ospite gradivi e l'artista nino canosa un uomo riservato timido introverso ma allo stesso tempo rispettoso e a moda una brillante carriera alle spalle ricca di consensi e successo la canzone popolare abruzzese non può ovviare di citare il famoso cantante ortonese nino canosa nino canosa benvenuto grazie grazie cominciamo da vola a vola volesse far venire per un raso lo tempo della contentezza che cos'è la contentezza pennino canosa? beh la contentezza è stare bene rivivere la gioventù la gioventù logica lei giocava a vola a vola con i suoi coetane da ragazzino? sì sì molto poi giustamente io ho fatto una mezza carriera artistica sempre umido la canzone popolare nel cuore di nino canosa? tutte le canzoni popolari tutte tutte tu eri molto amico di Rocco gentile una vita insieme sì una vita insieme sì perché lui mi ha non diciamo scoperto comunque ha creduto in me e ci siamo uniti e ho fatto una specie di vita con lui era un uomo brillante sempre giocoso sempre giocoso sempre sempre nel periodo del secondo conflitto mondiale nino canosa era un bambino che ricordi ha? oddio che ricordi ho ricordi da bambino avevo questo fatto di pensare a una carriera artistica ci sono riuscito a metà comunque è andata bene un periodo brutto quello della guerra addirittura saccheggiarono anche un treno giù alla stazione sì 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 io io non c'ero giù alla stazione comunque ho visto tutto quello che è successo è vero che molti ortonesi hanno rubato saccheggiato quello non l'hanno fatto per per fame per fare per necessità per necessità tutti quanti noi ortonesi quanto è vero il detto che molte persone si sono arricchite durante la guerra cosa accadeva? si sono arricchite giustamente perché hanno ruberie e poi c'era una confusione anche per gli alleati che stavano i tedeschi gli alleati che stavano chi erano buoni e chi erano i cattivi tedeschi americani neo-giolantesi i migliori i migliori i tedeschi a me non mi hanno fatto niente perché si sono comportati discretamente bene anche gli altri poi che sono venuti hanno fatto il loro dovere le mamme che importanza avevano durante il periodo obelico? oddio le mamme le mamme pensavano ai figli pensavano che non succedesse la fine del mondo Lino Canosa ha avuto paura durante la guerra? si io ho avuto paura la guerra e la guerra poi nasce la passione per il canto inizia il festival di Sanremo nel 1951 Nino Canosa ovviamente è attaccato alla radio per ascoltare la canzone vincente di Nilla Pizzi si io ho avuto questo fatto della 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 musica e del canto perché avevo una voce di scritta e cantavo alla chiesa di San Tommaso Apostolo con il maestro De Francesco e da lì ho cominciato a capire che potrei fare qualche cosa di buono con il canto quanto conta l'allenamento per uno che canta una canzone per impararla a memoria quanto tempo ci vuole? io dico ci vuole ci vuole perché uno deve io non so forse sono stato una persona che apprendeva che mi piaceva cantare che apprendeva bene le canzoni e poi lei è stata una persona sempre riservata quanto è contato per lei la spinta di Rocco Gentile? Rocco Gentile mi ha dato una spinta forte perché era una persona brillante ecco sapeva stare con la gente sapeva intrattenere un showman diremmo oggi sì uno showman bravissimo e poi Nino Canosa incontra il maestro Mario Marincola ed entra nella grande orchestra un passo veramente in avanti sì con il maestro Mario Marincola ho fatto ho iniziato bene 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 e sono andato avanti anche in tournée all'estero oltro oceano bella soddisfazione per la sua band sì in tournée ci sono stato tant'è vero che qua ci sono i miei dischi ho fatto i dischi lei ha partecipato anche a trasmissione radio televisive tipo il musichiere lasciò raddoppia quando erano i tempi belli c'era Mike Buongiorno c'era Corrado c'erano veramente i grandi artisti che ricordi ha? di partecipare ho partecipato e ci sono riuscito a fare 1960 Nino Canosa inchiuda Ortona a rimanere attaccato alla radio vince la corrida sì la corrida mi ha dato una forte spinta per andare avanti con il canto questi sono i suoi gioielli i ricordi del musichiere e della corrida nei tempi bellissimi tempi e ho iniziato così anche quando ho fatto il militare cantavo pure lì ci stavano delle varie orchestre che io ho conosciuto e andavo avanti così facendo successo Nino Canosa ha fatto mai una serenata? parecchie assai assai ne ho fatte qualche canzone che ricordo in particolare? oddio allora ci stavano parecchie canzoni melodiche ti ispiravi a Taglioli a Modogno oppure a Villa? a tutte e quattro questi chi è stato più bravo? Claudio Villa o Luciano Taglioli? per me tutte e due non hai una preferenza? no la canzone Volare di Domenico Modogno? sì una bella canzone ma io le canzoni le sceglievo bene quindi lei ha un grande repertorio molto vasto soprattutto nella canzone popolare sì molte belle canzoni popolari e poi altri altri successi poi lei ha inciso anche un disco dedicato a Cristina denominato Cristina ma chi era veramente Cristina per Nino Canosa? è fittizia la cosa me l'hanno proposta io l'ho fatto e è andata bene la vita la vita da pensionato di Nino Canosa una bella carriera anche come impiegato prima al comune di Ortona nell'ufficio sanitario del dottor Alfredo Pettorossi e poi con la riforma sanitaria nel 1981 Nino Canosa arriva alla ASE bei ricordi per il suo datore di lavoro Alfredo Pettorossi un grande medico un grande uomo sì sì un grande medico un grande uomo sono stato bene no lo vogliono tutti quanti quindi non è che Nino Canosa stiamo al termine di questa bella conversazione con un vero artista ortonese vuole lasciare un messaggio alle nuove generazioni io sono stato bene penso a loro che saranno anche loro bene e si daranno molto da fare come ho fatto io per questa carriera artistica Umberto Eco diceva chi legge il libro vive sette volte chi canta vive bene oddio sono arrivato a questa età quindi penso che il detto è vero proprio il tempo della contondezza non finisce mai per Nino Canosa buona vita e tantissimi auguri per i suoi prossimi 91 anni grazie grazie Nino Canosa Tommaso Tucci Edoardo Di Bierro per Punto Ortono per la città per la città cari a per la città per la città è la città